L'operazione di oggi ingiunge al termine di un'intensa attività di indagine che prende il via da una segnalazione dei nostri omonimi del Sud America, i carabinieri cileni. Nel 2018 intercettano su un autobus di linea dal Peru, diretta a Santiago del Cile, una donna con occultati 10 kg di cocaina. È da qui che poi parte l'indagine che ricostruisce tutto l'organigramma dell'organizzazione. È un esempio importante di come la cooperazione tra gli Stati stanieri è un'arma efficace contro il contrasto del traffico internazionale di droga.